E' il momento del main event ma no 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 dovremmo aspettare ancora un po' prima del main event Prima di vedere finalmente Stigma contro Enigma perché signori era da un po' che non si faceva vedere Ma sta entrando Ryan Rage Signori uno dei top name che sono arrivati in federazione dopo anzi durante stage 15 Lui, J-Hawson e Lex Evil, ricordiamolo, hanno... Si sono disputati, si sono affrontati in un triple threat match con Impalio, l'allora vagante titolo Hardcore Quindi, signori, signori, c'è tanta tanta carne al fuoco quando si vede questo wrestler amminare sulla rampa C'è tanto tanto hype ogni volta quando si vede Ryan Rage arrivare qui nell'arena della IPWI Per l'ora Ryan ha effettivamente combattuto poco ma... Quei match che ha combattuto e il carisma insomma che ha all'interno della federazione Hanno fatto capire che lui è un atleta non di alto, di altissimo livello Signori E qua sicuramente il buon Ryan Rage è venuto qui per dirci qualcosa Dato che non ha match in programma a meno che non voglia aprire un'altra open challenge Ma penso di no, penso di no Stage 20 è sempre più vicino quindi penso che Ryan voglia dirci qualcosa Quindi ascoltiamo le parole del punitore della IPWI Oh, guarda guarda chi si vede! Il sole unico Ryan Rage qui al centro del ring IPWI con un microfono in mano Come sapete nelle scorse settimane non ho parlato molto Soprattutto perché non avevo niente da dire E anche perché stavo rompendo il culo a quel coglione di Paul Austin Però ora è il momento che io apra la bocca e dica la mia su questa situazione So che alcuni di voi mi odiano Alcuni di voi mi amano ma a me non mi interessa Io sono qui e ando dritto al punto Voglio sfidare Corvo Nero Lo sfido a venire qui nel ring faccia a faccia Per parlare, solamente parlare al momento Senza trucchetti Senza bastardate Una chiacchierata da uomo a uomo Signori le intenzioni di Ryan sono molto molto chiare E non è nemmeno sorpreso dall'arrivo di Corvo Anzi sa benissimo che Corvo è qualcuno che questi tipi di sfide, questi tipi di challenge Insomma non le rifiuta, non le rifiuta assolutamente Quindi signori Lasciamo entrare anche uno dei wrestler più iconici di questa federazione Corvo Nero Signori Corvo Nero Un wrestler che qualche settimana fa ad ABW WrestleMania ha fatto il suo debutto in ring Sconfiggendo una leggenda del calibro di Mutombo E che ha affrontato anche A Fury Thunderpool in un match tra Colossi Che però è finito comunque in squalifica Dato, anzi è finito in pareggi Lui si sono fatti contare fuori Perché in quel momento si stavano odiando E si volevano solamente massacrare Ma signori questi sono dettagli che potete andarvi a recuperare sul canale della IPWI Signori Corvo Nero è qui È carico Sicuramente insomma Spero Dettiamolo così Spero che la sfida Questa sfida vocale con Ryan non vada a finire in cacciara Non vada a finire in casini vari Signori Lasciamo parlare i due sfidanti a stage 20 Caro, caro Ryan Tu non puoi capire da quanto aspettassi questo momento Finalmente ti sei deciso a confrontarmi Finalmente hai avuto il testosterone che ti mancava per sfidarmi Abbiamo tirato troppo per le lunghe questo momento E sarò sincero con te Non ce la facevo più Però ora sono qui davanti a te Quindi ti lascio parlare Dopotutto sono un gentiluomo e anche se non ti sopporto Devo ammettere che sei stato uno dei pochi a mettermi tanto alle strette Quindi prego Ryan Il ring è tutto tuo Beh, hai ragione Corpo Sono stato l'unico a metterti così tanto alle strette Infatti le cicatrici dietro la tua schiena parlano chiaro Però sorvolando quello Tu mi hai attaccato a stage 15 Facendomi perdere il mio match di debutto davanti a tutti Mi hai fatto schienare Da quel drogato di X-Evil Perché mi hai attaccato? Per pura gelosia? Per pura rabbia? Eri mica accecato da quelle due emozioni Perché stavi per vedere Ryan Rage Fare quello che tu hai fatto per la OPW Meglio di te Qui a casa tua La IPWI Eri geloso che forse sarei diventato io Il volto dei Layfed? Beh, mi dispiace deluderti Ma io non sono mai arrivato qui Con l'obiettivo di diventare il volto dei Layfed Anzi, io sono venuto qui Per dimostrare quanto valgo più ora che mai Perché forse in OPW avrò dimostrato Di essere il migliore tra i migliori Però qui in EPWI è tutta un'altra cosa Sono pronto a dare battaglia a qualsiasi persona nel roster E a vincere quel titolo mondiale Forse lo prenderei proprio da Enigma Ovviamente parlo di titolo mondiale Perché qualsiasi altro titolo ci viscerei sopra Però ehi Non c'è problema, vero? Alla fine io e te abbiamo un obiettivo in comune Perché alla fine ti ricordo che Tu te ne sei andato Da questa federazione Proprio quando hai perso il titolo contro Enigma Quindi non dovemmo neanche essere nemici in questo momento Però tu hai preso un po' troppo a cuore Quello che è successo in OPW Quello che è successo a Stage 20 Ad Angry for Gold Soprattutto a Collisione Che c'è? Ti fa ancora male la schiena? Quello che voglio dirti È che hai fatto un grave errore Attaccandomi Perché proprio quando mi stavi per diventare simpatico Ecco che scendi nella lista Dei nomi Che amo E arrivi in basso Hai superato Jay Austin Corvo Tu mi hai fatto incazzare Più di una volta E ora hai proprio Superato il limite Perché io potrei tranquillamente Farti del male Potrei sfidarti a Stage 20 E farti del male E batterti Proprio come ho fatto In OPW Perché proprio come ho fatto in OPW Io potrei farti il culo Ovviamente nei nostri match Anche tu hai avuto Una singola vittoria Ma è stata solo Tramite Fortuna Perché senza quella valigetta Corvo Tu non mi hai mai Battuto L'Hesgate Title Shot Ti ha dato Una possibilità Che tu hai sfruttato al pieno Che però non ti è bastata Per superare Me Perché sono tornato Più forte che mai E ti ho spezzato In due Oh mio Dio Ryan Sei un disco rotto Sai voglio raccontarti un qualcosa Io apprezzo la buona musica E apprezzo molto i vinili Ma quando un disco è danneggiato E gravemente graffiato L'unica cosa che mi resta da fare È buttarlo via Ed è quello che voglio fare con te Caro Ryan Io mi sono rotto il cazzo Di sentinti continuare a parlare Di come quella volta Che ti ho sconfitto Allo cap È stato solamente un caso fortuito Tu non riesci ad accettare L'evidenza Che io Ryan Ti ho battuto E ti ho tenuto sempre testa Io ti ho schienato Ryan Te invece non ci sei mai riuscito Le uniche volte in cui sei riuscito A sconfiggermi È stato tramite una sottomissione Al limite del legale Per un semplice motivo Ti sei cagato talmente tanto sotto Di non riuscire a schienarmi Con la tua Letale e fatale Rage Quit Che hai dovuto usufruire di mezzucci sporchi Hai dovuto usufruire di metodi Che non erano leali Metodi che ti hanno agevolato Solamente perché Volevi vincere E solamente perché Non riuscivi a trovare un metodo Per tenermi testa Senza usare Oggetti O cazzate varie Te lo voglio dire Ryan Ti sei cagato sotto E lo devi ammettere Hai dovuto usufruire Di mezzucci sporchi Perché La differenza tra quella volta In cui ti ho sconfitto io E quella volta che mi hai sconfitto tu È che quando ti ho sconfitto io È stato in un match Uno contro uno Senza cagate varie Mentre quelle volte in cui mi hai sconfitto È perché c'era sempre Sempre una stipulazione di mezzo Ed è solo grazie ad una maledetta stipulazione Che sei riuscito a portarmi allo stremo Perché questo è quello che sei Ryan Fatelo dire Sei un maledetto codardo Non riesci a fare un match Uno contro uno Perché hai paura di fallire Senza quel minimo aiuto dato dagli oggetti E dalle stipulazioni Ryan Tu sei solamente un codardo E lo devi accettare Corvo Ora stai iniziando davvero a parlare a Bambera Sei caduto così in basso Forse quel fossile di Jack davvero ti ha influenzato Ha influenzato il tuo modo di pensare Perché In questo momento mi sembri Un emerito coglione Un ritardato Senti Sai una cosa Perché non chiudi il becco E fai parlare me E soprattutto Fatti curare Perché Sì Ti ho battuto E ti ho battuto e come? Facendoti Cedere E non sai quanto è divertente Umiliare il proprio avversario Chiudendo in una sottomissione Da cui non si può liberare Con le grida di dolore Le urla di pietà Le lacrime Che scendono Sulle loro guance E toccano il tappeto È qualcosa di così soddisfacente L'ho fatto per ben due volte A stage 20 E a collisione nell'Hellie Nassel Match La tua schiena te lo ricorda molto bene Ehi perché non ritorniamo indietro nel tempo e lo facciamo di nuovo? Sarà uno spasso te lo assicuro Però Su una cosa devo darti ragione Ti ho sempre battuto quando c'era di mezzo una stipulazione L'ho fatto a stage 20 e a collisione E se tu In questo momento vuoi farmi capire Che vuoi affrontarmi in un match uno contro uno a stage 20 Io ti assicuro che accetto la tua sfida Perché sono pronto a batterti per l'ennesima volta In un match normale Facendoti soffrire Ma soprattutto battendoti al centro del ring Con la mia UPW E schienarti per l'1,2,3 Sono Carico Sono pronto E sinceramente Me lo aspettavo Però Voglio solo Ricordarti che Io non sono qui Per punirti colgo Perché di quello Non me ne potrebbe pregar di meno Io voglio solo farti comprendere Che ci sarà Completo caos Che dire Signori La sfida È Stata Ufficializzata Corvo Nero Contro Ryan Rage Stage 20 Un match Un match uno contro uno Un puro match di wrestling Da un lato avremo il corvo Dall'altro avremo il diavolo Dell'IPW Signori L'IP È Sempre Sempre più alto Cazzo Sempre più alto Ladies and gentlemen It's Main Event Time È il main event Di quest'oggi È Il main event È un match da stage 20 Secondo me Secondo me Sono completamente d'accordo Infatti Io come molti Ci aspettavamo Che questo match Sarebbe effettivamente Stato a stage 20 E invece Stigma Non ha avuto più La pazienza Di aspettare Non ha avuto più La pazienza E Signori Non penso Stigma sia uno A cui frega molto A quale stage L'importante È che lo vinca Esatto Signori Il primo ad entrare È il Già citato Sfidante Signori L'attuale leader Della stable Evo Chi il messaggero Di Judas Steel Signori Stigma Is in the building E Si infiamma L'arena Signori Si infiamma Questo main event Penso sia Attesissimo Mamma mia Alberto Ma Un pronostico Uno dei wrestler Con la più grande Aura Aura Di imbattibilità Nella federazione Ti devo dare ragione Un pronostico Sul match Io stavolta Penso che Stigma Penso che riuscirà A mettere fine Al regno del terrore Di Nigma Penso che sia arrivato Il momento Esatto Se c'è un qualcuno Che può Deve Qualcuno che ce la può fare È lui Alla cattiveria La forza Tutte le caratteristiche Date Quindi Può essere l'uomo adatto Per sconfiggere Enigma Assolutamente E signori Dall'altro lato Si fa Attendere Il campione Un ex Campione Di coppia È l'attuale E A questo punto Si può dire Più longevo Campione Nella storia Della Federazione Per quanto riguarda Il titolo massimo Enigma 14 stage Di regno Eh già Iniziate Stage 5 Dopo aver sconfitto Corvo Nero In un main event Di 30 minuti Un Wolfgang Anywhere Fantastico Uno dei più bei match Della stagione A mio avviso Ehm Che Ha avuto Alti E Bassi Ma L'unica cosa Che gli si può dire A Denigma È che L'ha difeso Lui aveva Promesso Aveva promesso Che avrebbe mantenuto Il titolo E sarebbe stato Il miglior campione Penso che Non ci sia dubbio Alcuno Esatto È sicuramente Il miglior campione Che questa federazione Abbiamo Una star Dette tutti gli aspetti Assolutamente Sì Assolutamente Sì Signori Questo main event È Molto Importante È un preludio Di quello Che Ci sarà A stage 20 Per quanto riguarda Importanza Secondo me Signori Eh già E chissà Cosa ci sarà A stage 20 Dopo questo match Esatto Cioè La vera domanda È cosa succederà Poi a stage 20 Dopo questo incontro Cioè Sì Sì ma Sigma Avrà sicuramente Un Un osso duro Da affrontare Dovrà Dovrà tirare fuori tutto Se vuole vincere quel titolo Assolutamente Sì Assolutamente Sì Signori Determinatissimo Quel fuoco negli occhi Che pochi hanno Comunque In questa federazione Assolutamente Sì Questo è il secondo match Titolato in carriera Di Stigma Il primo Fu per il titolo Internet Contro Shingo A stage 12 Match Che Incredibilmente Perse Nel Fantastico regno Di Yamamura Tra l'altro lato Unica Sconfitta Da schienamento Di Di Stigma Esatto Esatto Perché un'altra sconfitta È Nel ladder match Per il Per la Valigetta Però L'hanno benne schienato Cioè Quindi signori È comunque Una dei restri più vincenti Di questa stagione Assolutamente Una quantità Di vittorie Ha persino Abbattuto In un handicap match I bone splitting machines Esatto Diciamo Ha vinto Con Determinate Circostanze Ma comunque Gli ha sconfitti Esatto E questo può essere Suo momento Questo può essere Suo momento Che match Abbia inizio Abbia inizio Che tensione Che tensione Oh Oddio Stigma Parte subito Subito aggressivo Oh Ci prova Ci prova Ci prova Ci prova Ci prova immediatamente Ma enigma Ma enigma Non penso Si possa far battere Così in fretta Rialza Serie di colpi Metodico Rapido Chop No Tenta 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 un elbow No Madonna Risponde E ora Questa State jacket Neckbreaker E si va E si va A caricare Con il pubblico Unio Backfist Irish Sweep Uh Lariat Stende subito Stigma Subisce Questa Senton Da parte Del campione Serie di chop E adesso Va ancora Come Colpisce Enigma Colpiscono In pochi Comunque Ora forse Un altro Senton Si Adesso Attenzione Se lo carica Sulle spalle Uh Bellissimo Discus punch Discus punch Stupendo Da parte Del campione Anzi Di enigma Che ora Va a rialzare Stigma Tenta di nuovo Rimettere la terra Può essere Ma no 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 Stigma Dice di no Stigma Dice di no Ancora Mette all'angolo Mamma mia Stigma L'aggressività Pochi sono Come No No Si rialza Subito Da nulla Da nulla Enigma Ha studiato I match Di stigma Esatto E ora Pisto fate Da quanto Non si vedeva La pisto fate Uno No no Nemmeno Conto di uno Nemmeno Conto di uno Enigma Ha studiato I match Di stigma Non si fa Mettere I piedi In testa E adesso Ancora Vuole andare Con questo Discus punch Devastante Ma mia Ti alza subito Stigma Enigma Side effect Ma no 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 Sigma Dice no no Intenta Sicuramente Iniziato Pensando Si malissimo E infatti Oh Mamma mia Mamma mia Di fa il medio Di fa il medio Adesso Mega In corsa Va con un leg drop Tenta il fin No 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 Si libera Inigma Si libera Esce fuori Da ring Enigma Che diritti Stigma lo frega Stigma lo frega Bellamente Lo anticipa Sa Le mose Nello Shortstealer Discus Elbow Enigma Enigma Terra Enigma Terra Oh Backfist No No Enigma Colpo Tenta Di nuovo Appoggia le corde Irish Sweet Bellissima Ma nemmeno Conto di uno Enigma Enigma Eh già Prova ancora Il pin Uno Uno No 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 Stigma adesso Rialza il campione Gomitata Lo prende Colpo Uh Emmerlock DDT E adesso Stigma Va a rialzare subito Il ca Ci c'è Oh mio dio Oh mio dio Pai driver subito Ma Enigma Sembra non sentirla Enigma Sembra non sentirla No Oh ma Enigma Vogliamo provare a fregarlo Ma qua Esatto Ma come si rialza Con che Grand Del Con quale Nonchalance Enigma Adesso Va a rialzare Lo sfidante Calcio sullo stomaco No Calcio sullo stomaco Oh mio dio Oh Un braccio Da dietro Bellissima Va con questa Facebuster Ma il campione Lo rialza Viene fa un altro E ancora Sembra quasi L'Enigma Di un tempo In questa situazione Lo appoggia All'angolo Corre No Stigma Tenta di prenderlo Uh Stigma Si riprende subito Ripresa velocissima Da parte Dello sfidante Per le kick Deve Bastante Airy sweep All'angolo No Va con una finta Incredibile Molto intelligente Stigma Poi Oddio Lo appende Come I panni Bagnati Lo appende Come Lo rialza Oddio Ma no 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 Enigma Dice di no Enigma Enigma Dice di no Enigma Dice di no Super kick Stigma si rialza Tenta un altro Super kick Enigma Oddio Oh Poggia Che potenza Stigma Lo scaraventa Che ginocchiata Che ginocchiata Che ginocchiata Adesso lo prende No Enigma Ancora Super kick Un altro E adesso Classicone Cold red Una cold red Due No 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 Per pochissimo Che sequenza Signori Che sequenza A parte di questi due E adesso Enigma Cosa vuole fare Lo sbeffeggia Quasi Eh già Aspetta Che si rialzi E sicurissima Di se stessi Oh 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 Sigma Con un guizzo Sigma Con un guizzo Super Super Flash Splash Scesso Classico Splash Lo riporta Al centro Del ring Benvita A calzarsi Dice Fatti avanti Fatti avanti Irish Bellissimo Bellissima E adesso Ancora Oddio Ma No Enigma Enigma Si riprende E allora Sigma Gli dice Di farsi avanti Richiama Enigma Oh Oddio Oh no Oh no Oh no L'ha preso GTS 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 Corte Oddio Ci sono le corde Ci sono le corde Ci sono le corde Le corde Entrava un'altra Diritti Enigma Si rialza Oh Con quale velocità Mamma mia E adesso Enigma Has the upper hand Oddio Forse No Lo voleva subito caricare Oh Gli dice No Gli dice No E adesso Terza corda Terza corda Swanton Bomb Uno Due No 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 Di pochissimo Di pochissimo Di pochissimo Signori Enigma gli dice Che andrà a dormire Di fare Notte Notte Ma non è una volta Stigma dice di no Tenta un backfist Serie di colpi Aggressivissimo Oh Oddio Airy sweep Reversal No Wow Mamma mia Lo prende in pieno Lo prende in pieno Eh già E adesso Prende ancora No Si due si guardano Enigma Tenta di colpirlo No No Ginocchia Tenta una ginocchia No Cosa sta succedendo E dove si evitano ancora No E ancora Enigma Con che Potenza Backstabber Backstabber Sghienamento Uno No 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 Solo conto di uno Che scambio incredibile Non si è capito Assolutamente nulla Cosa avrà in mente Enigma I due sono storditi Enigma Enigma No Si sposta Cosa voleva fare Oddio Stigma Stigma Corre Entrambi Fuori dal ring Ma Enigma Si rialza Stigma No Anche Stigma Si rialza E mentre No 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 File driver File driver File driver Guardate Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Fermatelo 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 Guardate Guarda Enigma Guarda Enigma Guarda Enigma Come Un fantoccio Enigma No no Enigma non ci sta Calcio Pugno Ancora Stigma Lo getta fuori dal ring Oh mio dio Cosa vuole fare Stigma Cosa vuole fare Stigma 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 Corre Suicide dive Mamma mia Suicide dive Lo vediamo fare poco a Stigma Comunque Esattamente Adesso Contro il tavolo Dei commentatori Ma non si ferma più Lo sta uccidendo Lo vuole uccidere Oddio Ma Enigma Enigma ha una ripresa Enigma ha una ripresa L'abito gli dice Tornare all'interno del ring Ma Oddio Oddio CPS Ancora È la terza Ma guardate Stigma Guardate Stigma È un bagno di sangue Che può Ancora Ancora Questa mossa Oddio Terza corda Enigma Cosa hai in mente Di fare Madonna santissima Oddio Oddio Va con questo Electro A ghigliottina Esatto Ributta All'interno Del ring È qua Signori Cosa hai in mente Può vedere Una carcassa Cioè È ormai Stigma Una carcassa Praticamente Oh Eh No Ma non si ferma La Stigma Non ha intenzione Di stare a guardare Irish Whip No I due si scontrano Oh Enigma Ed è qua Io sono il vittore Slip 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 No È qui Finta alla Naito Corre Meteora Stigma si rialza Ho ginocchiata in bocca Seria Di colpi Mamma mia Non si fermano più Ancora No Slip 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 Sì che glielo fa al meglio Sì che glielo fa al meglio E ningone esce Oh Lo prendi velocità Oddio Oddio No 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 Ancora niente Oh mio dio Oh mio dio Stare down tra i due Si guardano Oddio Oh madonna Oh madonna Oh madonna Questa la fece anche a DC Gold Oh 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 E le conosciamo Le conosciamo Ste ginocchiate Oh 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 Fermi qualcuno Fermi Enigma Qualcuno Fermi Enigma Stima Riesce Lo prendo in contropiede Lo prendo in contropiede Mio dio Non ho più la voce Non ho più la voce Oh Che power man da parte di Stigma Ancora Serie di colpi Durissimi Ma Enigma Ancora No Stigma Lo c'è Ce l'ha Ce l'ha Oh mio dio Tiger Bomb Tiger Bomb Lo rialza subito Lo rialza Lo rialza Vuole No Il sangue sugli occhi Non gli fa vedere bene Esatto Oh di Enigma Riesce Oh L'ha preso L'ha preso Opportunismo L'ha preso Nightmare injection Nightmare injection Jetson Uno Due No vabbè No vabbè No vabbè Terza corda Terza corda No No Cade Cade male Stigma corre Ci prova In tutti i modi In tutti i modi Uno No Solo quanto di uno Non penso che riuscirà Lo butta all'angolo Enigma Tenta di prenderlo No È stigma È stigma Farlo Terza corda Oh mio dio Come l'ha preso Backbreaker E adesso lo chiama E nega non vuole stare giù No Superchick No Superchick Stigma Colpo I receive Reversal Oddio di nuovo Di nuovo Oh mio dio Ancora Questo match È ai limiti Della logica umana Oddio È qui Oh no Non è Sonda mia Un'ennesima Un'ennesima Piledrive No No Non può farne un'altra Stigma Riesce a combattere Riesce a combattere Di nuovo Stigma Secondo me Può vincere questo match E come Oh mio dio Oh mio dio No 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 White noise Oh White noise Siamo al fondo di 7 White noise Deve riportare Enigma Nel ring E infatti Lo richiama Ma stavolta Stigma Ha un obiettivo Esatto White Nice Dai È la fine È la fine È la fine Uno Tampione Uno Due Due No No Non ci credo Non ci credo Non ci crede nemmeno Stigma Che prova a parlare Con l'arbitro Un match estenuante Stanno facendo Il possibile Genocchiata Dai Stigma Dai Stigma Per abbattere Enigma ci vuole tantissimo Per abbattere Enigma ci vuole tantissimo E guardate Guarda Stigma Come per Enigma Per dire Entra Team Fatti avanti Fatti avanti Oh Genocchiata Di nuovo Genocchiata Di nuovo No 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 I Rishwhip Oddio Enigma Oddio Cosa Oddio Mutta Giù Stigma È Moonsault 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 Press No Tenta di Prendere Stigma Oddio 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 Cuore sangue Spira Oltre la barricata Oddio 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 Basta Guardate Nigo Attenta in qualche modo Di rimanere in piedi Non ci riesce Oddio 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 lo chiama, lo chiama, è in una posizione perfetta è vicinissimo e dove si guardano ancora e qui è completamente K-O tigua mio Dio ancora di nuovo questi colpi brutali mio Dio basta falla tranquillo oddio oddio è tutto quello che conosce white noise no te fa le bombe te fa le bombe e adesso basta ce l'ha nel mirino ce l'ha nel mirino tre pezzi che tu dai abbiamo un nuovo campione abbiamo un nuovo campione oddio 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 è questo no 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 ci prova ci prova è un Dio è un Dio no oh mio non è possi- no come c'è Stigma è incredulo non sa più cosa deve fare per vincere questo e dice basta si rialza di nuovo oddio collisione in aria collisione in aria oh mio Dio e negua passa sotto passa sotto si rialza oh mio Dio e negua lo rialza un altro super cake seconda corda swanton bomb no no a vuoto oh oh si gira guardando in faccia Stigma che continua a colpire non gli importa guardate non ce la fa più un altro sleep 3 sleep 3 sleep 3 oh oh purvizia qua di Stigma purvizia qua di Stigma che non sa che fare lo porta all'angolo lo porta all'angolo terza corda se lo oddio questa volta questa volta se lo carica da terza corda lo prende super play oh no con che forza continua che va con erro uno due no 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 tisi sasom tisi sasom sasom SIGMA gli dice fatti avanti campione si taglia la gola un'altra slip trigger un'altra slip trigger un'altra enigmatic kick e qua enigma qua enigma deve andarci giù pesante mi sa ancora ginocchiata ginocchiata ancora un altro capaster rialza Stigma rialza Stigma un altro super kick un altro questo dietro la mucca cosa vuole fare ora un altro super kick di nuovo super kick di nuovo no oh no Tenton Airship Stigma neanche ancora Tenton Airship no è troppo stanco oh l'ha mandato a fancuna enigma gli dice fortiti gli dice fortiti uno due no cosa serve per finire questo match cosa serve un altro lo rialza un altro basta basta enigma lo sta malmenando ancora tutto so che gli rimane ancora 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 basta no no stigua stigua ci prova però no non ce la può fare e appoggia enigma alle corde prova a chiamare la forza dei fadma stigua 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 deve tentare di riprendere in mano il match ancora caccio pugno pugno oh mio dio oh mio dio oh ancora no vabbè no stigua 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 dai lo prende oh mio dio non le corde no no ma ci sono le corde ci sono le corde ci sono le corde e adesso ancora gli vuole aprire la ferita ancora di più no no non ha intenzione di fermarsi non ha intenzione di fermarsi stigua stigua oh 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 e ancora enigmatic enigmatic kick lo rialza lo rialza gli dice che deve essere finita no calcio no 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 iriship lo prende ancora mio dio mio dio oh pugno oh stanchissimi oh state però stigua gli dice no stigua non si ferma io ti voglio massacrare non si ferma gli dice io ti voglio massacrare ancora no no oh mio dio Nononononononononono La metti su velocemente No ti prego Oh mio dio Non ti prego La rigighty In caccia Basta Uno Due Sali impossibile non ci voglio credere bombale cade sull'arena di stage 19 non ci voglio credere no 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 dimmi che è un incubo non può essere come cazzo ha fatto e mezz'ora di match sarà stato più o meno ma Enigma ce l'ha fatta Enigma è ancora anche il campione e guardate qua si vede il volto di Enigma praticamente il face paint sotto la maschera se n'è andato e guarda il titolo come come per dire lo sapevo sin dall'inizio che ce l'avrei fatta incredibile Enigma è ancora il campione se ne va se ne va non c'è nulla di sfida e io direi signori che su queste immagini per stage 19 è tutto ma cosa sarà la stage 20 cosa succederà a stage 20 io non lo so io non lo so però attenzione qua Enigma appoggia il titolo e torna nel ring e si vede che è stanco ha un fare molto molto lento e prende il microfono sentiamo che cosa ha da dire l'ancora campione sono maledettamente stanco ma sono dannatamente contento di avervi chiuso la bocca ancora una volta io sono un cazzo di dio e voi non l'avete ancora capito voi non l'avete ancora capito non l'avete ancora inserito nel vostro cervellino dare l'uridi reglietti della società io sono un dio e anzi io vi dirò di più io a stage 20 non so nemmeno chi cazzo sarà il mio avversario ormai ho abbattuto tutti all'interno di questo roster quindi sapete che vi dico fatevi avanti perché a stage 20 sono disposto a mettere la mia fottuta carriera in palio non c'è niente nessuno che mi può fermare signori Enigma ancora una volta conferma la sua pazzia e si va a vantare con il pubblico si incinocchia qua nel frattempo c'è un'inquadratura su stigma prima i paramedici sono venuti a ripulire stigma del sangue e ormai è svenuto è sven oddio oddio non è umano quest'uomo non è umano va a si riesce a rialzarsi va a rialzarsi se c'è al tavolo dei commentatori va a prendere un microfono va a prendere un microfono stigma tu che cazzo ci fai ancora in piedi dovresti essere lì svenuto a terra morente non ce l'hai fatta stigma devi ammetterlo non ce l'hai fatta e poi perché cazzo ridi mi stai mandando al manicomio con questa risata irritante che cazzo hai da ridere piccolo illuso che non sei altro sei solamente uno sbruffone ma dato che vuoi sapere perché ho iniziato a ridere così tanto devi sapere una cosa tu hai fatto qualcosa che non dovevi fare lingua tu hai fatto qualcosa e non dovevi fare sconfiggendomi hai risvegliato più che qualcosa qualcuno e quel qualcuno sta venendo a prenderti e ti sfiderà a stage 20 con quel titolo in palio campione oh mio dio ancora parli sei fantastico stigma te lo devo ammettere ma dai parla seriamente parla seriamente se questo qualcuno che tanto nomini è talmente interessato a me allora lo aspetta a calda per a braccia aperte a stage 20 lo aspetta a braccia aperte io sono un cazzo di dio stigma nessuno è in grado di battermi io verrò seppellito con questo titolo alla vita io sono il più grande wrestler che questa compagnia e che le ifed abbiano mai visto quindi dai se questo fantomatico avversario è talmente interessato a me venisse pure a stage 20 lo aspetta a braccia aperte la tua arroganza mi irrita ogni giorno di più ma so benissimo che lui riuscirà a zittirti una volta per tutte come ho già fatto in passato preparati enigma perché se tu ti definisci un dio beh tu potrai essere pure una divinità ma dal mio lato non ho una divinità io ho un demone signori io non so cosa assisterebbero nel main event di stage 20 so solo che stigma non l'ho mai visto così sicuro di sé in tutta la mia carriera da commentatore che ansia enigma adesso continuo a festeggiare che sta succedendo che sta succedendo